Per il secondo anno consecutivo, il centro commerciale Grand Shopping di Molfetta apre le porte alla moda. Dopo il successo della scorsa edizione, torna Fashion Week, il fantastico universo, alla scoperta delle nuove tendenze della moda, che si concluderà domenica 26, ma non solo. Fare occhi puntati sulle novità relative ai nuovi look, alle tendenze e agli accessori più glamour della moda. In passerella dunque tutte le novità della moda uomo, donna e bambino, che hanno incantato appassionati e decine di clienti del centro commerciale, madrina dell'evento, l'artista Gio Squillo. Di tutto rispetto, gli stilisti che hanno proposto le loro collezioni, da Annalisa Di Lazzaro, Anna Calviello, Paola Fumarulo, Ileana Colavitto e Anna Maria Vigliotti. È un momento importante, la settimana della moda al Grand Shopping di Molfetta di Molfetta, e si cerca di dare spazio soprattutto a quelli che sono i brand della galleria, che potranno in questa occasione sfilare quelle che sono le nuove collezioni autunno-inverno. Quindi diamo spazio agli operatori per poter far promozione ai propri brand, poi ci saranno quindi le scuole con la sfilata degli abiti realizzati dai ragazzi dell'istituto di moda, e questo fashion contest, il primo fashion contest, si concluderà sabato alla presenza di Gio Squillo, che concluderà l'evento per quanto riguarda gli istituti di moda. Mentre domenica abbiamo abbracciato quello che è il tema attuale, il rispetto dell'ambiente, e ci saranno delle sfilate di moda con abiti realizzati completamente con materiali di riciclo. Ma la vera novità di quest'anno è il primo fashion contest dedicato ai giovani aspiranti stilisti degli istituti di moda della Puglia, che si sono sfidati in particolari performance. Esposti durante la settimana i bozzetti più originali realizzati dagli stilisti in erba, oltre alle creazioni realizzate utilizzando materiali riciclati. Fino a domenica prossima dunque, al Grand Shopping di Molfetta, la moda continuerà ad incantare. Sono previste sfilate ed eventi per conoscere le novità dei migliori brand, dalle scarpe agli abiti di ogni stile. Grazie.